Core è materia, colore, forma, l'irregolare armonia di elementi provenienti dal mondo naturale. Progetto in porcellanato a tutto spessore di Leonardo Ceramica, Core è un sorprendente mix materico, realizzato non più con l'ausilio di atomizzati tradizionali, ma con granuli variegati di nuova concezione. Innovazione di materia e innovazione tecnologica per un grass porcellanato dall'aspetto quanto mai prezioso. Proposto in sei colori, in due formati, 60x120 e 60x60 cm e nella raffinata finitura levigata satinata. Core è pensato per ambienti residenziali e commerciali e si coniuga perfettamente con altre collezioni firmate in Leonardo Ceramica grazie al Color Planner. Proposto in abbinamento con Icon, realizza emozionanti contrasti di composizione materica e abbinamenti cromatici tonali, conferendo alle superfici una forte valenza estetica.